Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo oggi online contro Pembo Lini, un 2082, giochiamo E4. Allora, innanzitutto se non l'avete già fatto vi invito ai piaciuti iscritti qui sotto per non perdere i prossimi video e supportare anche la YouTube di chi sta matto. Giochiamo un'apertura spagnola, apertura che già ho analizzato in questo canale YouTube, quindi magari ve la metto qui sopra il video apertura spagnola in 10 minuti. E' uno dei più visti di questo canale, quindi ha avuto molto successo. Allora, qui arrocchiamo. Il Pn4 è in presa, ma in realtà non è un problema perché poi con Torre 1 attaccherei il Pn5, quindi lo riprenderei abbastanza facilmente. E allora, il piano della spagnola qual è? È conquistare il centro con C3 e D4. Potrei farlo subito, però prima verso Torre 1, difendiamo E4 e poi il piano sarà C3 e D4. L'alfe B3 è veramente Arcangelo in questo momento, quindi è la principale. Deve capire se vuole fare l'attacco Marshall ed è proprio quello che sta giocando con D5. Quindi perone per, E4 subito. Attenzione, non è la principale, infatti la principale è il cavallo per e poi può sacrificare anche il pedone. E4 non penso che me l'abbiano mai giocata. Analizziamo allora. Quali mostre possiamo fare? Ok, o perone per cavallo o spostare il cavallo in F3. Cavallo da F3, quindi probabilmente in G5, in D4 non mi piace. Quindi ho G5 o H4. Allora, secondo me, perone per cavallo è praticamente unica. Perché cavallo in G5, cavallo per, ci sarebbe questo attacco di scoperta. Il mio cavallo non è che è messo benissimo. Ok, può tornare però in E4. Questo è vero. E quindi cavallo in G5, se invece difende E4, ok, c'è chiaramente il cavallo in presa. Si potrebbe pure cavallo in G5. Non so qual è migliore. Perché cavallo in G5, ci sono contraddicazioni, forse alfiere in G4 potrebbe essere interessante. Donna C2, cavallo via, cavallo per, alfiere F5, magari mi inchiodo il cavallo, però posso fare D3. Ma secondo me cavallo in G5 funziona pure. Oppure, perone per cavallo, cosa può fare? Perone per, donna per, ok, ho un perone in più. Ho un perone in più senza partire i problemi. Se fa alfiere in G4, invece, forse è questo il trucchetto. Perone per, alfiere in G4, io non posso spostare il cavallo ovviamente. E poi dopo che cattura mi ritrovo l'arrocca un po' fregata. Allora dai, giochiamo cavallo in G5 e poi il cavallo tornerà in E4. Penso che il motivo di E4 è proprio giocare dopo alfiere in G4. Probabilmente è un trucchetto. Ok, gioca comunque alfiere in G4. Donna C2, l'avevamo vista. Quindi minaccio di catturare il pedone in E4. Cavallo in E5. E direi che si può catturare il pedone senza partire i problemi. Su alfiere F5, attenzione perché ho cavallo per fare lo scacco. E poi catturerei l'alfiere. Quindi non può inchiodarmi. E qui se io catturo di donna, attacco due pezzi. Attacco due pezzi, però basta che se ne difende uno e probabilmente si salva. Anche se poi potrei fare il D4. È interessante. Ok, beh, catturiamo intanto. Ho anche alfiere in C2 e minaccio matto. Però può fare F5. Secondo me D4 non può essere sbagliata. Mi immagino F5 come risposta a D4. E a questo punto la mia regina dove va? Forse deve tornare in C2. Forse deve tornare in C2 perché in F4 ovviamente non potrei. Beccherei l'attacco di scoperta. Altre case. Forse in E3. Ah, in E3 potrei anche. Ok, D4 in ogni caso va bene. E su F5 donna E3. Qui devo stare attento perché ha tutti i pezzi puntati. Quindi probabilmente vorrebbe anche sacrificare un cavallo F3 scacco. Per questo non ho fatto donna C2. Voglio tenere la mia regina vicino la difesa. cercare di un po' fermare l'attacco nemico. Perché comunque ho un peone in più. Sono in vantaggio. Però, anzi, additore forse due peone in più. Due peone in più perché il peone D5 però non l'ha ricatturato. Ho due peone in più ma qui il suo attacco è insidioso. Attenzione, F4. L'idea è che su donna E4 gioca alfiere in F5. Però poi posso fare donna E2. Posso fare donna E2 poi. E' complicata perché donna D2 ho paura tipo qualche cavallo F3. E allora faccio prima donna E4 poi donna E2 e magari così mi lascio donna F1. Quindi su alfiere F5 donna E2. E su, vabbè, F3 per donna E per... Non mi sembra ci sia qualcosa. Comunque è complicata. E' ovviamente complicata come posizione. Ma sto pensando comunque che su alfiere F5 io potrei anche catturare il peone F4. Guardate, alfiere F5 donna per F4. Non c'è la scoperta perché cattura di regina. E quindi alfiere F5 donna per F4 cosa può fare? Cavalli in D3. Ci sarebbe cavalli in D3, certo. Attacco doppio e perdere la torre. Non c'è dubbio, ok. E' la donna E2. F3. Qui devo catturare? Forse non è obbligatorio in realtà. Non è obbligatorio catturare per me. Anche perché sto continuando a miaccere il cavallo. Quindi cosa potrei fare? Donna F1? Potrebbe essere un'idea. Oppure donne E3. Questo cavallo però poi andrà in D3. Quindi comunque mi darà fastidio. E' complicata. Se catturo invece... Don G in questo... No, non c'è. Scusate. Ok, ho catturato. Però la posizione è veramente, veramente complicata. Quindi non so se riesco a uscirne indegno. Cavallo in D3. Ok. Allora io sacrificerei anche qualcosa. Per esempio alfiere in C2. Però alfiere per alfiere potrebbe essere interessante. Cavallo per torre. Alfiere per alfiere. Attenzione. Ah, ma mi attacca la regina. Mannaggia, devo catturare per forza. Ah, c'è da un 5 scacco. No, è così ha vinto. Se la vede, ha vinto. Se la vede, ha vinto, mi sa. Perché attacco doppio e non avrei più speranze. Donna H4! Non l'ha vista! E io qui posso catturare... Attenzione, no. Perché Donna per H2 è requimato. Mannaggia. Eh, non l'ha vista, ma comunque sembra essere... Un casino la posizione per me. Devo scappare in F1? Eh, ma qui comunque Donna per H2. Poi c'è Torre 8. Troppo compiata. Non conoscevo questa... Questa mossa. E4. Allora, posso provare a sacrificare la regina a questo punto. Ma qui potrei anche dare scacco. Donna per, per,one per. Due torri coi, due torri, due pezzi. Nooo. Ok, devo catturare. Ok. Donna per, cavalli in D2. Scacco. Allora, e qui c'è Matto. Cavallo e 4. No, vabbè, ok. Torre per cavallo. Direi che è vinta. Per lui. Ok. È un'apertura veramente interessante. La voglio subito vederla. È giusto per capire se è stata già giocata. Eh sì. Ok. Con il 5 è giocata 3500 volte. Quattro solo 30 volte. Però è un gambetto interessante. Ad di tutto l'ha giocato Nigel Short contro Nakamura. Quindi è assolutamente da conoscere. D per C6. Qui la mossa corretta. E perché? Su alfiere G4 avevo pensato. Cosa succede? Ah, H3 e G4. Addirittura. Mi sembrava esagerata. Probabilmente funziona invece. Per una per alfiere G4. Ah, accetto la per 4. Ok. Ok. Quindi non può giocare qui alfiere G4. Perché gioco a H3 e G4. E chiaramente se per una per cavallo. Posso catturare. E ho tutto il tempo di ricatturare il pedone. E poi difendermi. Ok. Mi è sfuggita questa. Pensavo che con alfiere G4. Poi catturando di pedone. La mia posizione sarebbe stata un disastro. E invece il problema è che dopo cavallo G5. È un disastro. Perché qui... È stata comunque giocata da due maestri internazionali. Però sembra veramente terribile. Alfiere in G4. Donna in C2. Cavalline 5 è corretta. Cavallo per E4. Cavallo per. Donna per. Mi dà comunque vantaggio. Mi dà comunque vantaggio il motore. Ma alfiere in D6. D4 è giusta. F5 è giusta. E l'ho sbagliato. Donna E3. F4. Donna E4. Alfiere F5. Ah. Qui dice additore di sacrificare la regina. Eh. Cavolo. Perone per. Alfiere per donna. Torre per E4. Fin C5. Sì. Però dai. Non è una posizione che si può giocare blitz. È chiaro che due pezzi per donna. È veramente complicato questa posizione. No. Non si può. Non è. Non è pratica. E qui però se non. Sorrifico la regina. Non ci sono mosse. Donna E2. Che si dice. Infatti. Qua da vantaggio nero. Il problema di questo gambetto per il bianco è che è veramente complicato giocare da bianco. È vero che ho due pezzi di vantaggio ma l'attacco c'è. L'attacco c'è come? Quindi assolutamente conviene rifiutarlo e giocare D per C6. Come ha giocato Icaro Nakamura contro Nigel Short. Quindi D per C6 e dopo E per F3 D4. Ok. Bene. Abbiamo imparato una cosa nuova. Ovviamente non ho mai visto questa mossa E4. Molto molto interessante. E allora fatemi sapere che ne pensate nei commenti di questa partita. Fatemi sapere se voi la conoscevate questa mossa E4. Personalmente non me l'avevo mai giocata. Quindi se siete giocatori di apertura spagnola magari vi era già capitato. Lasciate un like se vi è piaciuto il video. E ci vediamo alla prossima. Vi lascio qui dei video e ci vediamo in pressione. Ciao.